Emma Marrone presenta con entusiasmo il nuovo album Souvenir che anticipa un tour nei club italiani. E un singolo pronto ad uscire in questi giorni. I fan erano più pronti che mai a sostenerla e lei proprio non poteva farne a meno. Su Instagram Emma ha mostrato se stessa senza filtri o costruzioni mostrando la sua gioia. Irrefrenabile. Stefano De Martino ed Emma Marrone. Pranzo a Capri. Fan. Tornare insieme. Emma Marrone in lacrime su Instagram. Mi stavo cazzando per questo comeback. Poi ti leggo e mi emoziono.